Ed è stata effettuata per la prima volta in Italia, nell'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, la CAVIAR, un'innovativa tecnica di ricostruzione plastica della valvola ortica, ideata dal cardiochirurgo francese Manuel Lansac dell'Istitut Mutualist Montsoury di Parigi. La tecnica è stata eseguita da Lansac, coadiuvato dai cardiochirurghi dell'Opera di Padre Pio, su due pazienti di 25 e 48 anni affetti da insufficienza ortica. I prossimi casi, idonei all'intervento, saranno selezionati sulla base di un'indagine effettuata dall'unità di genetica medica e seguiti dal cardiochirurgo Michele Palladino, che ha imparato questa tecnica nell'ospedale francese. Ascoltiamo il dottor Lansac e il dottor Cassese. Con la tecnica CAVIAR, il paziente manterrà la sua valvola e i suoi tessuti biologici, abbattendo i rischi di infezione correlati all'impianto di protesi biologiche e i rischi di emorragie e trombosi correlati all'impianto di protesi meccaniche. La tecnica garantisce una qualità ed un'aspettativa di vita nettamente migliore per il paziente. L'interesse per questa tecnica è relativo alla conservazione della valvola ortica, soprattutto in pazienti con insufficienza, valvolare, pazienti giovani, pazienti che hanno spesso problemi anche genetici in famiglia, tipo Marfan o sindromi similiari delle malattie del connettivo. I vantaggi sono quelli chiari della possibilità di non essere sottoposti ad anticoagulazione ed un rischio anche infettivo minore perché non portano protesi valvolari. Quindi è possibile evitare di mettere una protesi ed evitare quindi anche di avere tutti i problemi correlati all'assunzione degli anticoagulanti.